Un chilometro di spiaggia dorata e incontaminata, un oasi verde posta tra mare adriatico e laguna. Fin dal primo sguardo, Union Lido Park Resort svela tutto il suo fascino, un luogo di vacanza unico e indimenticabile. Dal 1955 per le famiglie di tutta Europa, Union Lido Park Resort significa arte dell'accoglienza, wellness all'aria aperta, divertimento personalizzato, nel segno dell'acqua. Union Lido Park Resort offre ai suoi ospiti due esclusivi acquapark. L'acquapark Laguna, unico in Europa. Con 6.000 metri quadrati di sabbia bianchissima che si immerge nelle sette vasche di cristallina acqua azzurra. Un ambiente dalle forti suggestioni tropicali, tutto da scoprire e da vivere. La cascata tra le rocce. Il fascino della grotta musicale. L'acquapark mare è puro divertimento acquatico. Per i bambini, l'emozione della laguna con morbide isole anticadute. E poi via, lungo l'Easy River, lanciati nella corrente a bordo dei Goon Moon. Il più entusiasmante dei divertimenti. La passeggiata sul mare di Union Lido Park Resort è la più lunga del mondo. Un'immensa spiaggia privata e sorvegliata. Si affaccia sulle limpide acque di Cavallino. Un mare calmo e pulito, certificato dal prestigioso marchio di qualità ambientale Bandiera Blu. Una spiaggia senza barriere, dotata di rampe di accesso facilitato, per non escludere nessuno dei suoi ospiti. La proverbiale ospitalità di Union Lido Park Resort è forte di un'esperienza di oltre 50 anni. I servizi all'interno del resort sono all'insegna della massima efficienza. Gli ospiti possono usufruire della registrazione automatizzata. L'intera area è coperta dalla connessione wireless. Per tutti l'Info Point è il vero punto di riferimento, per essere sempre al corrente su ogni aspetto della vita ad Union Lido. Il camping e park resort si sviluppa su un'area di 60 ettari, ombreggiata da 15.000 alberi ad alto fusto. Union Lido applica un'innovativa politica ambientale ecosostenibile. Polizia quotidiana della spiaggia. Raccolta differenziata dei rifiuti. Tecnologie per il risparmio idrico ed energetico. L'ecobus elettrico per gli espostamenti all'interno del campeggio. Così Union Lido ha ottenuto il certificato ambientale UNIEN ISO 14001. Il fiore all'occhiello è rappresentato dalla straordinaria oasi naturale di 6 ettari. Qui l'ospite, attraverso l'itinerario naturalistico, potrà immergersi in un ambiente incontaminato. Il parco è attrezzato per il divertimento dei bambini e per il fitness. Per il proprio soggiorno, l'ospite potrà scegliere tre numerose tipologie di alloggio. Le tende, i caravan e i camper trovano posto nelle 2500 ampie e ombreggiate piazzole. A chi non vuole rinunciare alle comodità di casa, anche in vacanze, Union Lido mette a disposizione una ricca scelta di alloggi. Tutti dotati di aria condizionata e di terrazza. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Camping Home Living La camping home patio, nel cuore verde del resort, garantisce tranquillità, privacy e tutte le comodità. La MV Camping Suite Lussuosa family room, immersa nella pineta. La tenda MV Collection Il meglio della vacanza in tenda, con arredi e comodità di gran classe. L'Art & Park Hotel, accoglie chi in vacanza ama essere coccolato. 78 camere doppie, 24 residenze alberghiere. La raffinatezza dell'interior design, impreziosita da una ricca collezione di arte contemporanea. Gli alloggi sono immersi in un verde oceano di pini, che comprende anche l'esclusiva piscina riscaldata, con idromassaggio. Il massimo del comfort e l'arte di ospitare caratterizzano ogni aspetto dell'Art & Park Hotel. Con il Marino Wellness Club, Union Lido inaugura la nuova frontiera del benessere. Una vera e propria oasi di acqua salata. Tutti i benefici della talassoterapia e di trattamenti esclusivi. Per prendersi cura del corpo e del perfetto equilibrio psicofisico. Con naturalità. E con una vista mozzafiato. Per prendersi cura del resto di culp freedom. Ciify la camere. Rimettersi in forma all'Union Lido Park Resort è un gioco, a tutte le età. Lo sport qui è di casa. Scuola di equitazione. Golf Academy. Tennis. Scuola Calcio. Tiro con l'arco. Scuola Sub. Scuola Windsurf. Chiunque potrà provare emozioni inedite. O semplicemente rilassarsi. Ricchissima l'offerta di giochi, divertimenti e animazione per i piccoli ospiti. Affidata al team di professionisti del sorriso. Con i club per tutte le fasce di età. I laboratori. E gli irresistibili morbidosi. Chau. Arbola Sliffe. Alla prossima. Voir partie. L'allegria è garantita per l'intera giornata. Lo shopping all'Union Lido Park Resort si chiama Via Veneto, una completa offerta di negozi all'insegna dell'autentico gusto italiano, dai prodotti biologici agli abiti griffati. Gli otto ristoranti rappresentano un esclusivo percorso gastronomico alla scoperta dei sapori mediterranei. Ma c'è spazio anche per i piatti della tradizione asiatica, per la cucina tipica del litorale. Impossibile non farsi tentare. La straordinaria posizione geografica di Union Lido Park Resort rende facile la scoperta del territorio veneto. In bicicletta e in barca si possono esplorare la laguna di Venezia e le sue isole. Poco più in là, Venezia, con i suoi tesori artistici e storici. Ma si potranno conoscere anche altre città d'arte, come Padova e Verona. È già tempo di tornare all'Union Lido Park Resort per godere dei suoi eventi serali. I concerti, gli spettacoli, le sfilate di moda e soprattutto i famosi fuochi d'artificio musicali, un altro indimenticabile ricordo. Union Lido Park Resort Il tuo parco delle vacanze Il tuo parco delle vacanze Grazie a tutti